6 eventi in 92 ore sono tanti e soprattutto eventi di altissima qualità perché si è partiti giovedì sera con il concerto di Baglioni per poi passare all'apertura dell'anno di capitale della cultura con il presidente Mattarella e poi a seguire i tre eventi successivi, quindi Maschiazze, Casa Dei e Rosa Chemical. Non finisce, è finita questa cosa ma subito la notte abbiamo dovuto approntare lo smantellamento delle strutture che erano state predisposte per l'apertura dell'anno della capitale per poi poter montare e poter ottenere la partita di basket della VL che si è tenuta la domenica. Quindi grandissimo sforzo però tutti gli ingranaggi hanno funzionato alla perfezione, centinaia e centinaia di persone che sono state coordinate dal nostro personale, dai dipendenti di Aspes che in maniera molto professionale, sopra addirittura di qualsiasi aspettativa è riuscita a coordinare questa miriade di persone che dall'esterno hanno contribuito a realizzare gli eventi, su questi vanno citate due strutture che con noi corroborano tutto l'anno, che sono Seven per quanto riguarda la logistica e la sicurezza con centinaia di persone che sono state impegnate in questa Tour de Force e Sandy Light che come sempre è una garanzia, una professionalità che nasce a Pesaro e che da Pesaro va in tutta Europa, in tutta Italia, in tutto il mondo a portare la qualità dell'audio, del suono e delle luci rispetto agli eventi stessi che hanno fatto sì che si riuscisse in così poco tempo a tenere gli eventi. Come dicevo, eventi importanti a cui si aggiunge rispetto alla normalità l'eccezionalità della presenza del Presidente della Repubblica che aumenta di tanto le procedure di sicurezza e di protocollo che in qualche modo hanno contribuito a mantenere la suspensa anche rispetto al rispetto dei tempi che in qualche modo siamo stati tenuti a garantire. Quindi grazie, grazie, grazie alla nostra struttura, ai nostri dipendenti e a quanti con noi hanno collaborato a far sì che tutto andasse nel migliore dei modi.